Ci troviamo nella stazione della metro di Paddington, dove presto sarà operativa la Elizabeth Line, la nuova linea dedicata a sua maestà Elisabetta II, prossima a festeggiare il Giubileo di Platino. E proprio per celebrare i 70 anni di regno della sovrana, TFL sta diffondendo le nuove Oyster Card Limited Edition. Il costo è di 5 pound, più la cifra che si desidera caricare sulla carta di viaggio, e sono facilmente acquistabili presso i distributori automatici per le Oyster Card situate all'interno delle varie stazioni metro. È possibile scegliere la modalità Pays As You Go oppure l'abbonamento Travel Card. Con giusto un paio di clic, in pochi istanti vi verrà rilasciata la carta, immediatamente utilizzabile sui mezzi di trasporto TFL. Da oggi c'è una soluzione facile e completa. In un'unica piattaforma puoi trovare news, informazioni, comunicazioni istituzionali, locali e nightlife, shopping e delivery, eventi e guide turistiche, ticket e molto altro ancora. Disponibile per smartphone, tablet e pc. Mille soluzioni, un'unica piattaforma. Complitali. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.